In tanti facendo il video di Tesla mi avete chiesto Ma Rastro, tu sei favorevole o contrario alla guida autonoma? Ed è un tema che andiamo a approfondire in questo video perché ci sono tantissime cose da dire C'è chi è favorevole, c'è chi è contrario Ma andiamo ad analizzare nel merito come funziona la guida autonoma Quali sono i suoi pro, quali sono i suoi contro E poi alla fine vi dico anche la mia opinione in merito Ma non andiamo ad analizzare una guida autonoma a qualsiasi Prendiamo come riferimento quella della Mercedes EQS 2024 Che avrà a bordo l'assistenza di guida di livello 3 Andiamo a vedere come funziona l'assistenza di livello 3 Come cambia da quella di livello 2 Su quali strade funziona Quanto costa anche mensilmente E alla fine vi faccio una panoramica su cosa ne penso E sì, come avete notato ho cambiato anche lo sfondo dei video Adesso ho messo una Ferrari F40 a competizione E una Lamborghini Diablo SV Che sono tra le mie macchine preferite di sempre Magari farò anche altri video con diverse inquadrature Che vedrete più avanti Se vi piacciono questi video a tema automotive Come sempre lasciate un like, iscrivetevi, attivate le notifiche Così non vi perdete nessun contenuto qui sul canale Siamo una grande famiglia Stiamo portando avanti questo progetto Anche dei video a tema automotive Insieme a quelli di Formula 1 Spero vi piacciono E ora non perdiamoci in chiacchiere Ma iniziamo subito con questo video Andiamo a analizzare la guida autonoma di Mercedes Ma prima vi ricordo che mi trovate su Instagram Come rastrodrives E ora sigla Se avessi chiesto alle persone cosa avessero voluto Avrebbero detto dei cavalli più veloci Questa è una citazione famosissima di Henry Ford Che vado a riprendere perché si collega benissimo Con il tema della guida autonoma La guida autonoma non dobbiamo vederla come parte dell'automotive Ma è più un servizio aggiuntivo che viene dato alle persone Per rendere la loro guida più comoda Così furono i cavalli in passato Che servivano a trainare la carrozza E quindi tu stavi lì da passeggero E così deve fungere anche la guida autonoma Infatti questo concetto di guida autonoma Affiancato alla guida di una carrozza con dei cavalli Cambia completamente il paradigma dell'automotive Così Mercedes ma come anche tanti altri marchi Stanno cambiando la visione su questo argomento A partire dalla guida autonoma di livello 1 O poi quella di livello 2 Che dal mio punto di vista erano delle guide autonome entry level Se vogliamo Dove non si poteva guidare senza le mani Ma servivano più come assistenza alla guida Per il conducente La guida autonoma di livello 3 è già uno step successivo Che in qualche modo ci fa percepire la guida In un modo totalmente nuovo Il drive pilot è il primo assistente di Mercedes Hands off e eyes off Che vuol dire senza mani e senza occhi E questo consente riprendendo sempre la metafora dei cavalli Di consegnare le redini dell'auto alla vettura in sé E non ce l'ha più il conducente in qualche modo Immaginatevi che vi ritrovate in una situazione di traffico Prima di andare al lavoro Oppure quando state uscendo dal lavoro E voi non dovete far nulla Perché è la macchina che pensa al posto vostro a guidare Evitate situazioni di nervosismo Non dovete essere attenti Quando magari siete stanchi dopo una giornata impegnativa E come potete vedere in questo video Test della Mercedes 6QS 2024 Trovate in un viaggio di 50 minuti da Santa Monica a Mid-Wideshire Un tratto di circa 10 km con il traffico Indubbiamente il sistema del drive pilot rende più comoda E senza stress la guida per il conducente Senza bisogno di preoccuparsi di quello che succede all'esterno E sono sicuro che molti di voi diranno Ma ci sono due problemi importanti Il primo è come faccio a fidarmi della macchina Magari succede qualcosa all'improvviso Non me ne accorgo La macchina non se ne accorge E ci rimetto perché faccio un incidente E quindi diventa qualcosa di pericoloso Anziché sicuro Il secondo problema che in tanti si pongono è Vabbè ma questo può funzionare magari nelle strade americane In zone dove c'è poco traffico Dove anche le strade sono mappate Ma in Italia con il traffico che c'è Con le strade che non sono segnalate Potrebbe essere un po' un casino far funzionare al meglio la guida autonoma Potrebbe avere dei problemi E quindi non funzionare in maniera adeguata Partiamo rispondendo al primo dubbio La guida autonoma di livello 3 Impone delle istruzioni che vanno lette dal conducente E quindi un processo di apprendimento Prima di utilizzare il drive pilot di livello 3 Sull'hyperscreen delle QS bisogna guardare un video di 8 minuti Dove spiegano quando il drive pilot funziona In quali condizioni Quando il conducente deve intervenire E i modi anche di attivare e disattivare il sistema ovviamente La parte dell'infotainment e il cruscotto Forniscono le informazioni necessarie Di ciò che sta succedendo fuori dalla macchina E su come utilizzare il drive pilot In modo da alleviare un po' l'ansia che si ha a bordo E cos'è che si può imparare guardando questo video sulla guida autonoma? Il video spiega che il drive pilot funziona solamente nelle strade mappate con cura dal GPS E badate bene la precisione deve essere al centimetro Con una risoluzione di alta definizione Sulla strada che stiamo percorrendo le linee presenti sull'asfalto devono essere ben visibili E deve esserci anche un veicolo davanti, leader, lo chiamiamo così Che impone la marcia Il drive pilot non supera i 74 km orari Quindi è utilizzabile solamente nel traffico moderato o intenso Perché il suo sistema funziona per alleviare la guida al conducente Ricordiamolo perché questo è il punto cardine di questo video Voglio spiegare come funziona questo sistema Anche perché in molti sono scettici a riguardo Me compreso Prima di continuare vi ricordo lasciate un like Iscrivetevi, attivate le notifiche A voi non costa nulla ma per me che faccio i video fa una grandissima differenza Vi ringrazio davvero tanto del supporto E ora torniamo a noi Tra l'altro il drive pilot funziona solamente nelle ore diurne e quando c'è bel tempo E un sistema come il drive pilot è chiamato automazione condizionata Perché è un sistema automatizzato ma tu devi intervenire quando richiesto Infatti se cambiano le condizioni durante la guida Il sistema di guida autonoma ti richiede l'intervento immediato Questo sistema di livello 3 del drive pilot verrà integrato nella Mercedes EQS del 2024 Su alcune Mercedes classe S E andrà ad aggiungersi all'attuale sistema di livello 2 Che comprende il controllo adattivo dello sterzo in maniera attiva E la centratura della corsia Ovviamente questo sistema di livello 2 comprende le fotocamere attorno alla macchina Con una fotocamera davanti che serve per adattare la distanza di sicurezza all'auto davanti Telecamere per rilevare le varie corsie E un sonar a corta distanza per le manovre in parcheggio Ma per la guida autonoma di livello 3 ci saranno ancora più sensori e telecamere Con anche dei microfoni per sentire l'ambiente circostante Oltre che un'antenna sul tetto GPS che serve appunto a capire dove è posizionata esattamente la macchina In quel momento con una connessione satellitare E questo per avere una maggior sicurezza dell'auto su strada E una migliore guida autonoma Guardando il video introduttivo una volta che abbiamo imparato come funziona l'assistenza di guida di livello 3 Come si può sperimentare in strada? Prima di tutto bisogna essere su una strada dove c'è la possibilità di utilizzare la guida autonoma In secondo luogo bisogna attivare la guida autonoma di livello 2 Una volta che abbiamo attivato la guida autonoma di livello 2 verrà scansionata la strada E se anche la trasmissione GPS dà il consenso di attivare il sistema di livello 3 Si accende una spia che ci permette di attivare la guida autonoma E quindi un piccolo pulsante con il pollice in su si accenderà E in questo momento tu diventi passeggero della tua macchina Seconde normative non sei più un conducente attivo Ma sei un conducente passivo che deve essere pronto a intervenire se c'è qualche problema Nel mentre si possono utilizzare anche le applicazioni della vettura Come YouTube, Zoom, si può utilizzare il sistema di bordo Come può fare un passeggero Ma se le telecamere interne infrarossi rilevano che tu ti sei addormentato O che ti sei distratto in una situazione non controllata Dove la guida autonoma non può più intervenire Allora parte un allarme che cerca di svegliarti E viene inviata una notifica in modo da farti riprendere la guida Se anche tu non dovessi riprendere con la guida La macchina andrà a rallentare piano piano fino a fermarsi Attivando tutti gli indicatori di posizione per avvisare anche gli altri conducenti Che quella macchina ha un problema C'è da dire che in una strada normale, ben segnalata Che è raggiungibile anche dal GPS Non ci sono problemi di questo tipo E difficilmente il Drive Pilot ti chiede di intervenire Quindi il sistema nel test fatto in California ha funzionato bene C'è anche da dire che però questo sistema arriva con un costo importante Parliamo di un abbonamento fatto con le app di Mercedes Che per il Drive Pilot corrisponde a circa 2500 euro Che sono poco più di 200 euro al mese Che sono tanti a spendere per un sistema di guida autonoma Che però per chi sta spesso nel traffico Può essere una soluzione molto comoda C'è anche a dire che il target della vettura dell'EQS È un target di pubblico ovviamente che può spendere Con un prezzo di partenza stimato sui 200.000 euro Una macchina per pochi Però pian piano andiamo avanti Il sistema di guida autonoma arriverà anche sulle utilitarie E quindi vedremo anche come si adatteranno i conducenti Perché adesso ha un prezzo troppo elevato Come ogni tecnologia che arriva sul mercato Ma sarà interessante vedere man mano si diffonderà Quanto verrà utilizzata E quanti prezzi scenderanno Già Tesla l'ha introdotta sulla Model 3 Adesso anche Mercedes quindi un colosso tedesco Si è mosso in quella direzione Lo stanno facendo un po' tutti Però vi ho voluto raccontare l'esperienza dell'EQS L'EQS Mayback del 2024 avrà 649 cavalli Un'autonomia non ancora dichiarata Ma si attende di circa 500 km Ora vi dico anche la mia opinione in merito Secondo me la guida autonoma può essere una soluzione Molto interessante in quelle situazioni di traffico O quando ci si sente un po' stanchi E allora rispetto anche al livello 2 del Drive Pilot Che non è una vera e propria guida autonoma Perché tu devi essere presente Devi avere le mani sul volante La guida autonoma di livello 3 Cambia notevolmente il paradigma dell'automotive E può essere un buon aiuto Quando guidiamo per strada D'altro canto penso che comunque il piacere di guida ci sarà sempre Soprattutto in pista O anche nei vari test drive in zone controllate Fatto sta che non dobbiamo fermarci al cambiamento secondo me Ormai la guida autonoma arriverà È un dato certo Ora c'è solo nelle macchine premium Come abbiamo visto Ma arriverà anche sulle utilitarie Quindi bisogna cercare di utilizzare al meglio questa tecnologia È anche vero che ad oggi c'è comunque una componente di rischio Penso la guida autonoma in Italia Ci sono tante strade che magari non hanno la segnaletica ben visibile Le linee sull'asfalto non sono ben visibili Ci sono tante zone senza campo E quindi magari il GPS può non funzionare al meglio E soprattutto deve essere integrato alla perfezione anche con i semafori Con i mezzi di trasporto pubblici E questo è più facile magari in alcune zone rispetto ad altre Per questo ad oggi è molto più facile utilizzarlo in zone più mappate Dove è anche più facile la guida Se sono pro o contro la guida autonoma Sono pro in alcune situazioni E contro un utilizzo scellerato di questa tecnologia Rimane il fatto che ripeto Il piacere di guida non svanirà mai Ed è quello che accende anche l'animo da pilota che c'è dentro di noi Però è molto interessante vedere tutti questi servizi aggiuntivi Che rendono sempre più comoda la guida al conducente E in qualche modo ci riportano all'epoca in cui i cavalli trainavano le carrozze Quando ancora la guida in strada non esisteva E lo spostarsi a un punto A a un punto B era solamente questione di trasporto Torneremo ancora su quel paradigma lì negli anni futuri? Oppure secondo voi ci sarà sempre piacere di guida? Cosa ne pensate della guida autonoma di livello 3 di Mercedes Che ci sarà sulla EQS del 2024? Ditemi la vostra in merito Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti Vi ricordo anche di lasciare un like Di iscrivervi se vi piacciono questi video a tema automotive E ne usciranno tanti altri molto interessanti in questi giorni Quindi non perdetevi lì e mi raccomando attivate le notifiche È fondamentale Qui da Rust è tutto Ci vediamo a un prossimo video Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione